Dalle 4 di oggi operazione antidroga dei carabinieri tra Bicegli e Trani, 16 persone arrestate. All'operazione hanno partecipato circa 100 carabinieri per dare esecuzione all'ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Trani e dal GIP del Tribunale dei Minorenni di Bari su richiesta delle rispettive procure nei confronti degli indagati, 5 in carcere, 10 agli arresti domiciliari e un minore all'epoca dei fatti collocato in comunità ritenuti gravemente indiziati a vario titolo di cessione, offerta in vendita, distribuzione e commercializzazione di sostanze stupefacenti di cui si approvvigionavano a Bari. I particolari dell'operazione sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa al comando provinciale carabinieri di Barletta Andrea Trani nella BAT.